Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove parliamo della 38esima giornata di Fanta Calcio questo video doveva essere caricato lunedì invece questo video è arrivato un po' di ritardo perché veramente ci sono state delle indiscrezioni di calcio mercato che proprio non ho avuto proprio tempo di caricare questo video perché c'erano tante notizie importantissime che ho caricato come avete potuto vedere chi mi segue e partiamo dalla mia formazione, partiamo dal portiere Donnarumma 7, difesa Manolas 6, Itzo 6, Mezzo Delight 6, finata adesso, benissimo Centrocampo, Malinovski 5, Mkhitaryan ha segnato 10, Locatelli 6, Mezzo, Chessi 14, 2 gol sul rigole Morata, doppietta, 13, Gio Petro 5, Mezzo, Ronaldo non ha giocato, entra Majoral 5 la sua formazione, consigli 7, Gosens 5, Isai 5, Calabria 6, Mezzo, Centrocampo, Cialanoglu 6, Fabian Ruiz 6, Politano 6, Insigne, Politano 6, Attacco, Insigne 5, Mezzo, Lukaku 9, Mezzo, Lautaro 9, Mezzo ho vinto il mandataccio, ho vinto il mandataccio, ragazzi primo, 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 l'ho chiuso primo, l'ho chiuso primo, l'ho chiuso primo vincendo le ultime cinque gare, le ultime cinque gare e si ribalta tutta la situazione e si ribalta tutta la situazione E si ribalta Tutta la generazione Si è ribaltato Tutta la generazione Si è ribaltato Si è ribaltato Si è ribaltato Si è ribaltato E vai E vai E vai Vai 4 a 2 l'ultima 4 a 2 4 a 2 Lo scontro diretto ho vinto Ho vinto lo scontro diretto 58 Io 57 Quello che è stato Primo fino Ad una giornata fa Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia